Amici di Youtube, bentrovati da Marco Ligori, avviso importante, qualora questo video dovesse superare i 300 like, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo, lasciate i vostri piace adesso per avere subito online un nuovo video di Marco Ligori e amici di Youtube, dal momento che in questo video c'è una componente politica, vi invito ad essere educati nei commenti, quindi per favore cercate di mantenere un tono educato nel rispetto anche di chi dovesse pensarla diversamente dal vostro orientamento politico apprendiamo che salta la striscia sull'economia familiare che stando al contratto già firmato doveva essere affidata Monica Setta a quanto si apprende la giornalista che non ha mai nascosto le sue simpatie per Salvini avrebbe dovuto condurre all'interno di uno mattina una rubrica di 10 minuti circa nella quale si sarebbero affrontati tema di economia domestica Amici di Youtube, clamoroso, salta la rubrica che doveva essere affidata Monica Setta e come detto voci di corridoio sostengono che sia per le simpatie per Matteo Salvini e a questo punto entrate in scena voi, scrivete nei commenti cosa ne pensate di questo ribaltone in Rai Monica Setta perde la trasmissione per le sue preferenze politiche plausibile oppure i motivi potrebbero essere altri Mai come in questo video gradirei ricevere il vostro commento il vostro commento è molto importante perché il termometro di quello che pensa la gente quindi aspetto i vostri commenti non mi dilungo più su considerazioni personali quindi commentate questo video il commento più bello sarà letto in diretta l'autore del commento sarà salutato da me e con queste modalità Vado a leggere il commento del giorno il vincitore o per meglio dire la vincitrice del commento del giorno è la mia cara iscritta Dina Casabolognesi Tina Casabolognesi sul video di Ivana Amrazova ci dice sono una coppia perfetta facciamo tanti auguri ad Ivana di una pronta guarigione che possa tornare dal suo Luca Onestini al più presto commento semplice ma molto bello grazie Tina Casabolognesi e grazie per aver acquistato il mio libro dall'ordinario allo straordinario Chi lo volesse acquistato può farlo da Amazon trovate il link anche in descrizione al di là di questo vorrei tornare un attimo su Monica Setta purtroppo non è un bel periodo per la conduttrice che oltre ad aver perso la rubrica all'interno del programma notizia purtroppo di qualche ora fa ha perso anche la nonna quindi facciamo anche le più sentite condoglianze alla famiglia di Monica Setta per la perdita della nonna amici di Youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video seguitemi sui social Marco Liguori 7 Marco Liguori 7 è Instagram Marco Liguori News è la pagina Facebook soprattutto iscrivetevi al primo canale di Marco Liguori potete farlo cliccando il tasto iscriviti e attivare la campanella la campanella che vedete sempre in basso a destra amici di Youtube su questo canale regna l'interazione commentate il prossimo ad essere salutato in diretta potreste essere voi ciao a tutti